Buongiorno, ben trovati, consueto appuntamento mattutino con Mattina Sud in diretta dalle 9 alle 10 su Antenna Sud, Canale 14, Puglia e Basilicata. Un'ora in compagnia reciproca, un'ora nella quale si parla di attualità, di ultima ora, di cronaca. E allora, mi dicono dal regia, tra pochissimo potrò avere in collegamento la collega da Lecce, Maria Teresa Carrozzo, con degli ospiti, perché quest'oggi parliamo, tra le altre cose, anche di inclusione sociale. E lo facciamo partendo da un evento che si è svolto qualche giorno fa a Lecce, c'è stato un fischio d'inizio all'interno del complesso sportivo Fair Play, si è data vita insomma ad una gara molto molto particolare. Gli atleti, infatti, che sono scesi in campo, hanno giocato bendati, quindi con gli occhi coperti. Sono stati coinvolti, tra l'altro, nell'occasione degli amministratori comunali, dei giornalisti, dirigenti delle Lecce Calcio, che sul campo appunto di calcio hanno poi sfidato la Scus Lecce, che è una squadra composta da calciatori non vedenti. L'evento calcistico, quindi interamente sportivo, ha in realtà solamente anticipato quella che è una campagna di sensibilizzazione denominata Cuori senza limiti, a sostegno dei paratleti. Un'iniziativa che naturalmente, come è facile immaginare, ha lo scopo di abbattere tutte le barriere architettoniche e anche un po' mentali. È una campagna promossa dalla Regione Puglia, dal Comune di Lecce, dal CONI, dall'US Lecce e dal CIP. Il progetto, dicevamo, Cuori senza limiti, è stato poi presentato nelle scorse ore all'interno dell'open space di Palazzo Caraffa a Lecce e nasce da un'associazione, questo progetto. Da un lavoro costante che l'associazione Anna e Walter, presieduta da Alfredo Fiorentino, fa costantemente sul territorio leccese e non solo. Un insieme, in realtà sono diversi i progetti che portano in campo. E noi vorremmo proprio partire da questo, dall'ultimo, da questa partita di calcio che parla di inclusione sociale, che parla di disabilità e che unisce al tempo stesso e permette di comprendere l'assoluta normalità di vita che c'è dietro una disabilità. E allora, ditemi dalla regia, se ho in diretta, tra l'altro, direttamente dal campo di calcio. Quindi oggi la collega Maria Teresa Carrozzo, grazie all'occhio della telecamera guidata da Matteo Russo, ci mostreranno il campo da calcio perché dovremmo, insomma, comprendere come avviene una partita in tal senso, così che possiamo capire meglio. E soprattutto parliamo di quelli che sono i diversi progetti che questa associazione, Anna e Walter, portano in campo sul territorio, lo ripeto, leccese, ma non solo, di caratura regionale, portano appunto avanti. Una questione di sensibilizzazione, certo, una questione di informazione, sicuramente, ma anche di formazione. Perché questa associazione è attiva in diversi ambiti, dalla formazione all'informazione, alla sensibilizzazione. Soprattutto negli ultimi periodi, con l'arrivo in Italia, ed in particolare nel territorio leccese, di profughi ucraini, di coloro i quali fuggono dalla guerra, l'associazione ha deciso di dare un'impronta, un aiuto concreto a queste persone. Perché l'inclusione passa, sicuramente l'integrazione passa, sicuramente attraverso la formazione. E così si tratterà anche di un corso di italiano per stranieri, nel caso di specie per i profughi ucraini. Ma tutto questo lo affronteremo con i diretti interessati. E allora, la vedo in postazione con due ospiti. Maria Teresa Carrozzo, buongiorno e bentrovata quest'oggi, dinanzi ad un campo da calcio. Bentrovata Valentina, bentrovati ai nostri telespettatori. Siamo qui, in diretta da Lecce, oggi per affrontare un tema veramente interessante e anche innovativo. Tra l'altro, un tema nuovo. Ecco, Valentina, hai fatto accenno nella tua eccellente e precisa introduzione a un evento che si è tenuto proprio nei giorni scorsi. Una partita di inclusione. Una partita portata avanti da persone che apparentemente potrebbero avere un deficit, ma in realtà superano ogni deficit con la forza dell'amore. Ecco anche dei piccoli trucchetti. Ecco, una partita di calcio tra non vedenti può sembrare una cosa difficile, quasi impossibile. In realtà è resa possibile, è resa possibile vederla, tifare, partecipare. Insomma, un vero momento di inclusione, laddove lo sport abbatte tutte le barriere e rende tutti più vicini e veramente uguali. Al mio fianco due persone per me importanti, parto dalla più importante, Davide. Benvenuto Davide. Buongiorno, grazie. E poi abbiamo il presidente dell'associazione che hai giustamente menzionato poc'anzi, Alfredo Fiorentino. Benvenuto Alfredo. Grazie, grazie a voi. Ecco, tu hai creduto moltissimo nell'integrazione. Tanti sono i progetti che porti avanti con la tua associazione. Non ultimo, la partita di cui tanto abbiamo parlato. Tra l'altro non era quello il primo appuntamento, ma un altro abbiamo seguito anche nei TG di Antenna Sud. Sì, non è il primo, non sarà l'ultimo. Cerchiamo di sensibilizzare il territorio attraverso queste tematiche che per noi sono importantissime per la crescita. E quindi l'altro giorno, come dicevate voi, quando c'è stata la partita di inclusione, è stato veramente un grande momento per tante persone che hanno vissuto per la prima volta questa inclusione. Che ahimè ci lascia un po' così, perché sono cose che dovrebbero far parte della routine quotidiana e invece poi ci ritroviamo su una partita a farla diventare importante quando magari dovrebbe essere ogni giorno importante per loro. Ecco Valentina, tu ti starai chiedendo come si fa a giocare a calcio, come fanno a giocare a calcio chi ha un deficit visivo. Ed è un trucchetto semplice semplice, però che io ignoravo, penso anche molti dei nostri telespettatori, probabilmente anche tu. Si parla del pallone a sonagli. Cos'è il pallone a sonagli Davide? Dunque è un pallone normale, al cui interno ci sono appunto dei sonagli. Eccolo qui, il pallone ruotando a terra, quindi sul manto erboso del campetto. Noi riusciamo a sentirlo e quindi sviluppiamo le nostre trame di gioco normalmente. Chiaramente il gioco si svolge prevalentemente raso terra, non aspettiamoci cross o palle alte, però riusciamo comunque, con grande abilità, a fare qualsiasi gesto tecnico, dal controllo, dallo stop, al tiro. Quindi è una bella partita di calcio, di calcetto, solo che, come tutte le cose per le persone con disabilità, avvengono grazie a degli adattamenti. In questo caso è il pallone a essere adattato che ci permette di giocare e divertirci. Te lo facciamo sentire Valentina, Davide, muovio. La prossima volta però, Maria Teresa, sfatiamo lo stereotipo che il calcio è uno sport solo per uomini. La prossima volta vogliamo essere invitati ad una partita, anche noi. La collega dice che la prossima volta vogliono essere invitati, anche loro, magari a fare giornaliste. Sarà un piacere, sarà bello per noi organizzare queste partite, oltre a farci divertire, serve per lanciare il messaggio, il messaggio della possibilità, la cultura del possibile, far capire che è possibile, che si può, qualsiasi cosa che riguarda le persone con disabilità, deve essere mostrata per far capire che è possibile. E così si abbattono tutte le barriere, che sono prima culturali, mentali e poi architettoniche. Tra l'altro Valentina, Davide ci stava spiegando una particolarità del pallone. Ci sono delle tacchette, dicevi? Ci sono dei forelli, dei forellini sul pallone, che praticamente permettono la fuoriuscita del suono dei sonagli che stanno all'interno. Dunque all'interno del cuoio, della sfera, ci sono i sonagli che ruotando emettono un suono e questo suono esce fuori dai forellini che sono presenti sui pentagoni, i saconi di questo pallone. Servono un po' d'amplificatore quei forellini, dunque mi pare di capire. Affinché il suono sia più forte? La collega dice che quei forellini servono da amplificatore per fare in modo che il rumore sia più forte, lo sentiate meglio? Possiamo dire così, possiamo dire così. Se non ci fossero sarebbe un rumore un po' più sordo, non un po' più attutito. Invece così appunto vengono fuori liberamente, il rumore viene fuori liberamente, noi riusciamo ad ascoltarlo e a percepirlo. e quindi a sviluppare tutte le nostre trame di gioco liberamente. Ricordo che si gioca 5 contro 5, il portiere vede, però ha delle grandi limitazioni, non può uscire dall'area di porta e i quattro giocatori di movimento sono invece non vedenti. Non vedenti assoluti, che giocano anche, giochiamo anche con una mascherina sugli occhi. Perché? Perché è considerato non vedente anche in termini di legge chi ha un residuo visivo, un residuo visivo che senza la mascherina farebbe la differenza rispetto a chi non vede proprio. Allora, per essere tutti uguali, giochiamo con una bendina, una mascherina sugli occhi. Quindi quattro giocatori di movimento che non vedono, la palla, che è lo strumento fondamentale, e l'altra cosa importante è segnalarsi. Quando si gioca bisogna segnalarsi, cioè se io porto palla, si sente che ho la palla al piede, quindi mi muovo, mi muovo col pallone. Se il difensore giustamente viene a cercare di togliermi il pallone, deve segnalarsi, cioè far capire che sta venendomi incontro per evitare lo scontro. E quindi è uno sport assolutamente sicuro. Questo è un messaggio importante da dare alle famiglie, perché molto spesso dicono che può essere pericolosa questa disciplina, ma in realtà no. Se osserviamo le regole non succede nulla. È sempre uno sport di contatto, per carità, ma non succede nulla di sconvolgente. D'altronde si gioca da tanti anni, se si gioca da tanti anni un motivo c'è, e si fanno anche competizioni internazionali a livello serio, come gli europei, i mondiali, si partecipa alle Paralimpiadi. Tutto sta a osservare le regole, ma una osservanza, un rispetto delle regole non è nulla rispetto all'emozione, al divertimento che ci dà a noi in campo e che può dare a chi ci vede. Anche perché, Maria Teresa, il rispetto delle regole è fondamentale in ogni sport. Sì, quello sicuramente, le regole sono una cosa fondamentale, però nel loro caso questa campagna di sensibilizzazione è anche a sostegno di quelle barriere, come diceva Davide, che sono culturali. Dobbiamo abbattere queste barriere, perché è importantissimo. Tutti questi sport purtroppo hanno delle carenze di ragazzi, di persone che a nostro avviso potrebbero fare sport, però magari per paure dei propri familiari non vengono inseriti. Qui abbiamo una testimonianza, come ne abbiamo tante altre, perché nella campagna di sensibilizzazione ci sono tanti campioni di basket in carrozzina, in bike, tennis da tavolo e tanti altri. Quindi attraverso le loro testimonianze, possiamo far capire che possono fare lo sport ed è una fonte importante per una nuova rinascita. Uno sport è una fonte, lo sport è una fonte importante per una nuova rinascita. Presidente Fiorentino, lei ha sottolineato quanto Davide aveva già detto, ovvero barriere spesso prima culturali e poi architettoniche. Ecco, nella quotidianità, quanto si trovano ancora queste barriere culturali? Come ci si scontra poi nell'atto concreto? Ce ne sono purtroppo tante, come dicevo, anche a limitarsi a portare un bambino che ha delle piccole problematiche motorie a giocare insieme ad altri. Questa è già una barriera che un genitore si sta ponendo in quel momento. Invece dovremmo cercare di trattare tutti i bambini allo stesso modo. Sotto l'aspetto culturale sarebbe una cosa importantissima di crescita. Poi grazie a tutte queste società che si impegnano diamo la possibilità a tutto il territorio di sensibilizzare, di informare al meglio tutte queste persone. Perché magari ci sono degli sport adatti più a una persona che a un'altra. Quindi noi parlando con le stesse società l'altro giorno e quando abbiamo presentato la campagna ci dicevano che bisognerebbe fare rete che poi è anche uno degli obiettivi principali di questa campagna di sensibilizzazione. Creare una rete e fortificarla tra di loro perché sarebbe una cosa abbastanza importante. Quali sono le difficoltà però che si trovano a vivere le famiglie di questi bimbi, Presidente, a cui lei fa riferimento? Suppongo il non inserire i propri figli magari in una squadra di calcio, nel caso di specie adesso, appartiene più forse ad una paura che possano farsi male. Quindi è giusto dire che tutto avviene in massima sicurezza nel rispetto delle regole come riconosciuto. Però quali sono le difficoltà nel quotidiano che una famiglia deve affrontare oltre ad uno sport? Non ce n'è nessuna secondo me. Davide è il più attrezzato a parlare di tutto ciò. E allora facciamo così, facciamo rispondere a Davide. Maria Teresa, vorrei un attimo capire quali sono le difficoltà di una famiglia così che si possa anche mandare un messaggio che magari può essere d'aiuto perché poi bisogna fare rete anche nella condivisione di una determinata situazione. E poi con il Presidente parliamo invece di quanto attiva, come nasce e quando nasce l'associazione di cui appunto è a capo. Assolutamente sì, Valentina. Davide, quali sono le difficoltà che trovate nella vita reale? Da atleti o da persone... Da entrambi. Allora, da atleti sicuramente trovare strutture che abbiano la voglia di accoglierci. E infatti qua dobbiamo ringraziare questa struttura, il Fair Play, che con sensibilità ci ha accolto con disponibilità e gentilezza. Poi mancano tecnici competenti, manca la cultura del mandare il proprio figlio o la propria figlia a fare sport, sport che serve non soltanto per un risultato sportivo ma per un benessere fisico, per un benessere mentale. La disciplina qualunque essa sia aiuta veramente a fare inclusione e a crescere dal punto di vista umano assolutamente. Poi le difficoltà nascono in genere nella vita dal fatto che secondo me non si conoscono le potenzialità di una persona con disabilità. Si è sempre pensato che la persona con disabilità fosse solo destinatario di assistenza, di servizi, di aiuto. In realtà ha delle potenzialità come tutti gli altri solo che le può mettere in gioco, in campo se è messo nelle condizioni di farlo. Quindi se per esempio io mi muovo in giro col bastone bianco e trovo degli ostacoli legati all'inciviltà delle persone vado più in difficoltà. Se non ci sono gli autobus sonori vado più in difficoltà. Se non c'è l'app accessibile o il sito accessibile cioè in grado io di poterlo leggere col mio lettore di schermo non riesco a gestire i servizi a pubblico e amministrazione. Quindi manca a livello istituzionale e a livello anche delle persone quella cultura del possibile, quella cultura che va alimentata con la conoscenza. E noi persone con disabilità ma anche atleti dobbiamo far conoscere. Ecco perché è importante questa vostra trasmissione quello che fa Alfredo, quello che fanno le persone che ci danno la possibilità di far conoscere alla gente quello che possiamo fare. Soltanto è il modo con cui facciamo le cose che è leggermente diverso ma riusciamo a farle comunque. Io chiederei Valentina se sei d'accordo proprio a Davide quante barriere ci sono ancora a Lecce e come si può migliorare proprio la vivibilità? Allora sicuramente è una città che viene da troppi anni in cui si è fatto poco a livello politico, amministrativo ma ripeto si è fatto molto anche perché noi come persone con disabilità abbiamo forse chiesto e spinto poco accontentandoci, stando comodi nel nostro habitat, nel nostro comfort. Adesso la situazione per fortuna sta un po' cambiando ci sono delle intenzioni che si stanno concretizzando da parte dell'amministrazione per esempio adesso molti autobus hanno il dispositivo vocale che annuncia le fermate comincia a esserci qualche striscia attrezzata come percorso d'attilo plantare sui marciapiedi insomma c'è da fare però tanto c'è da fare però tanto quando si parte con un gap così grande e da recuperare il lavoro enorme l'importante è che ci sia un piano d'azione che abbia le sue tappe che ci sia la parte nostra il concorso nostro di contributo, di aiuto cioè non si devono fare le cose senza chiedere effettivamente la reale necessità alle persone di cui poi andranno a soddisfare il bisogno se io ho bisogno di una rampa non può essere fatta con una pendenza sbagliata quindi è giusto chiedere a chi poi andrà a fruire di quel servizio come deve essere fatta devo dire che con questa amministrazione c'è un rapporto che è migliorato sta crescendo, si sta collaborando bene i risultati si cominciano a vedere però soprattutto occorre lavorare sulle persone sui cittadini far capire, far conoscere che devono comportarsi in un certo modo con rispetto perché il vero grande handicap la vera grande disabilità non è tanto la patologia di cui uno soffre quanto i limiti che la società stessa ci mette davanti ogni giorno i limiti che la società stessa vi impone sì, purtroppo non c'è rispetto per l'altro c'è la cultura dei cinque minuti per esempio parcheggio la macchina dove non dovrei tanto è per cinque minuti cosa vuoi che sia però cinque minuti tu cinque minuti lui cinque minuti l'altro tutta la giornata è un problema diventa un gran problema poi occorre anche disciplinare parlo sempre rispetto alla mobilità questo discorso dei marciapiedi che io chiamo un po' selvaggi cioè troppi tavolini troppe sedie troppi ostacoli laddove non ci dovrebbero essere quindi l'attenzione deve essere rivolta anche e soprattutto da parte degli operatori commerciali da parte di chi ha un interesse commerciale sì, vanno tutelati i loro interessi ma va tutelato anche il diritto a muoversi da parte di una persona su sedia a rotelle di una persona col bastone bianco di una mamma col passeggino dobbiamo essere rispettati tutti certo grazie mille Davide cosa volevi chiedere al Presidente Valentina? allora, no, in realtà prima di chiedere una cosa al Presidente devo andare voi siete con me, giusto? mi sentite tutti? Maria Teresa o solo tu? perché io devo andare a salutare in realtà in collegamento via Skype un'altra ospite tanto cara al Presidente sicuramente tanto cara anche a Davide insomma, una vostra conoscenza devo salutare Anastasia Nitzoi mi scuso se il cognome l'ho pronunciato in maniera errata buongiorno Anastasia buongiorno l'ho pronunciato bene? benissimo perfetto Anastasia dunque è una conoscenza dicevamo del Presidente Alfredo Fiorentino è una conoscenza in realtà una cara presenza una cara risorsa uso questi termini perché insomma è stato lo stesso Presidente a presentarmela in questo modo Anastasia glielo dico per correttezza dunque una grande risorsa per l'associazione Anna e Walter allora ho salutato Anastasia facciamo così andiamo dal Presidente perché io ho sentito parlare anche da Davide di informazione di formazione perché quando bisogna lavorare sulla cultura della società nella quale viviamo evidentemente c'è ancora un po' da informare per formare e voi come associazione Presidente fate anche questo ora tralasciamo per un attimino lo sport tralasciamo lo sport come veicolo di inclusione sociale e andiamo a parlare di integrazione perché poi l'integrazione passa anche per la formazione passa anche per il fatto che voi vi siete attivati ultimamente con un grandissimo centro raccolta per i beni di prima necessità destinati al popolo ucraino e al tempo stesso vi siete attivati con dei corsi di formazione di italiano per ucraini giunti sul posto perché non si può parlare poi di reale integrazione se non abbiamo alla base una minima conoscenza della lingua che può portare dunque ad essere cittadini attivi in un nuovo contesto sociale Presidente Valentina prima di farti rispondere visto che siamo in diretta e si vede il sole è cambiato quindi adesso siamo in piena proprio sotto il sole il nostro Davide tra poco si scioglie io in diretta chiedo a Davide di prendere il pallone il nostro amico pallone a sonai e di spostarci un pochino Matteo indietreggiamo in modo che troviamo l'ombra perché se no diventa veramente difficile fermiamoci qua concentrarci e poterti rispondere perché qui a Lecce oggi ci sono quasi 30 gradi scusami Presidente a te ti ho salvato dal sole intanto allora iniziamo a dire che il lavoro di Anastasia è stato fondamentale per questo percorso iniziato a fine febbraio noi come associazione ci occupiamo a 360 gradi di cercare di sensibilizzare il territorio e quindi anche le persone che vengono qui o le persone che sono in difficoltà come purtroppo in questo momento il popolo ucraino e quindi Anastasia è stata una figura importante perché al di là che è stata una mediatrice è stato proprio un collante tra le persone che poi sono arrivate qui e le persone che erano lì le persone che abbiamo aiutato con mezzi di fortuna partendo da qui cioè noi abbiamo passato trascorso 40 giorni presso i Salesiani che ci hanno ospitato come centro raccolta dove pensavamo di stare solamente 3-4 giorni giusto per dare il nostro contributo invece sono diventati 40 giorni dove praticamente in pochissime persone abbiamo dato tanto ecco è diventato un centro provinciale dove tutti i comuni ogni giorno dalla mattina fino alla sera venivano a dare il loro contributo quindi per l'ennesima volta il Salento ha dimostrato il grande cuore e noi comunque non ci siamo tirati indietro in tutto ciò ecco però bisogna dare merito ad Anastasia perché comunque è stata una figura importantissima che comunque non ci fermeremo qui ecco proprio ieri è stato l'ultimo giorno giorno di corso prima delle feste estive diciamo ecco anche perché poi grazie all'STP e alla provincia abbiamo trovato un accordo dove ci sono stati dati 550 biglietti per usufruire del Salento in bus quindi daremo la possibilità di conoscere la costa ionica a tutti i nostri ospiti e quindi era giusto adesso fermarci un po' con il corso e chiudere in bellezza la settimana prossima con una festa finale in una villa per farli vivere dei momenti leggeri anche ai bambini perché ce ne sono tanti e quindi puoi riprendere a settembre un momento dunque di convivialità poi si va in pausa un bellissimo spaccato Valentina non ho capito Maria Teresa un bellissimo spaccato è quello che stiamo offrendo oggi ai nostri telespettatori veramente un momento di integrazione e di manotesa verso chi ne ha più bisogno esatto e allora vado subito ad Anastasia perché poi so che la devo liberare perché deve correre al lavoro non vorrei approfittare sempre della bontà altrui Anastasia dunque un lavoro fondamentale un po' da mediatrice un po' da interprete qual è la prima paura qual è la prima domanda qual è la prima richiesta che vi è stata fatta nel momento in cui i cittadini ucraini sono arrivati e in voi hanno trovato braccia pronta ad accoglierli grazie per la domanda perché è importantissima una delle prime richieste erano quelle di alloggi le cure mediche sono state necessarie purtroppo dovevamo trovare tutto in urgenza io ringrazio tutti i medici che ci hanno dato una mano in questo periodo anche con l'emergenza di poter ricevere i miei concittadini concittadine soprattutto e i loro bimbi in un brevissimo tempo sono molto grata per questo poi come per ogni persona che non viene qui per una vacanza sono state necessarie il bestiario perché sono scappate dalla guerra durante l'inverno quando facevo meno 10 meno 15 gradi arrivando l'estate primavera e poi l'estate abbiamo bisogno di trovare i vestiti adatti per gli adulti per i bambini cibo prodotti alimentari cosa chiedevano di fare appena arrivati volevano avvisare qualcuno volevano usare il cellulare volevano comunicare qualcosa sono sono venuti tutti con il cellulare non era diciamo un problema anche perché gli operatori di ucraini hanno dato la possibilità di navigare in roaming anche fuori dall'Ucraina quindi questo è stato un gran bel aiuto però sì sono in connessione in contatto con i loro cari sempre perché ovviamente tutti i maschi padri mariti fratelli hanno dovuto rimanere in Ucraina per la legge non solo per la legge ma anche per la scelta di poter difendere il nostro paese lei Anastasia so che è in Italia da dieci anni sì le va di dirmi come si trova come questo popolo insomma l'ha accolta e l'ha abbracciata in effetti avevo anche io nel mio tempo parecchie difficoltà non conoscendo la lingua ma poi ecco la questione della lingua esatto mi ha dato tanta confidenza poi trovare trovare tanti amici gli interessi di integrarmi bene nella nella comunità di Lecce del Salento perché è meraviglioso qui se diciamo dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista dell'accoglienza amicizia ospitalità è una terra ricca non solo con le diciamo risorse ma con la gente che che ti vuole bene lei diceva prima Anastasia qualche difficoltà con la lingua quindi proprio da ciò nasce la necessità e l'importanza di comprendere quanto sia fondamentale imparare la lingua in un posto diverso da quello nostro di nascita e di appartenenza perché dalla lingua comune da questo strumento di comunicazione passa poi l'integrazione altrimenti si rischia di essere isolati perché mi piace sottolineare quanto sia stato fondamentale ed importante per grandi e per piccini il corso di formazione cioè il corso di italiano perché solo così si può poi ampliare si può cominciare un po' a seminare a creare quella rete di rapporti interpersonali quella rete di rapporti sociali che portano all'inclusione e non all'esclusione sono d'accordo sono d'accordo con lei perché oltre diciamo oltre la questione della conoscenza della lingua c'è anche la questione dell'integrazione avere le informazioni giuste sapere come muoversi in città dove chiamare in un caso di emergenza o necessità dove andare come chiedere l'aiuto o ordinare il cibo non lo so comprare fare la spesa nel supermercato ma oltre quello questo corso è stato importantissimo per dargli un senso di accoglienza di supporto qui che non sono sole esatto e questo secondo me perché diciamo che in due tre mesi non è possibile imparare la lingua per bene però la base la base per poter cominciare la base per insomma essere un minimo liberi di andare al supermercato e di prendere qualcosa un minimo questa è la base poi insomma nessuna lingua tra l'altro si impara da un momento all'altro magari fosse così fosse un pacchetto da acquistare no non è così per questo vale naturalmente per qualsiasi lingua straniera ciascuno di noi decida di imparare però la base consente la libertà iniziale poi naturalmente si continua si conquista ed aumenta sì sì è vero è vero il nostro corso che io vorrei tanto ringraziare Alfredo Fiorentino per questa idea e per aver trovato le maestre aver trovato il posto dove incontrarci è stato importantissimo e che alla fine è stato un luogo di ritrovamento dell'amicizia da dove sono partite tante iniziative anche dentro la nostra comunità ucraina poi Anastasia è in realtà uno scambio culturale reciproco perché anche quando ci si ritrova ad insegnare qualcosa si pensa di star lì esclusivamente per dare ma poi ci si rende conto immediatamente che tanto anche quello che si riceve cioè l'arricchimento culturale ed umano che avviene in alcune occasioni ripaga davvero da ogni sacrificio perché poi anche voi avete impiegato del tempo delle risorse però ci si rende conto che un dare è un avere cioè l'ago della bilancia è perfetto non tende mai da una parte o dall'altra è vero è vero dare e ricevere è fondamentale Presidente Fiorentino torno da lei Anastasia non vada via o meglio cioè vada via quando deve per necessità resti con noi perché così però mi avvisa e io la saluto perché gliel'ho promesso che poi la lascio la lascio andare Presidente torno da lei perché come l'è venuta questa idea come è nata come ha trovato tutti coloro che potevano insegnare l'italiano ha trovato anche un immobile ce la racconti? Diciamo l'idea quando devi aiutare gli altri il prossimo arriva con naturalezza ecco perché poi cerchi di avere accanto persone che ragionano come te quindi è stato facilissimo anche per quanto riguarda le docenti infatti vorrei ringraziarle perché se oggi siamo qui lo dobbiamo a loro anche grazie all'Università del Salento perché abbiamo creato una convenzione avendo dei tirocinanti che acquisiscono credito a fare lezioni al popolo ucraino ma anche alle docenti che comunque loro insegnano il pomeriggio gratuitamente venivano da noi e come diceva Anastasia non è solamente un corso ma è stato anche ed è un percorso di integrazione dove noi teniamo anche altre attività al di fuori per cercare di far conoscere le nostre tradizioni il nostro territorio Tra l'altro Valentina importante oltre a questo della lingua è proprio il lavoro totale nella totalità dell'associazione perché tanti sono i progetti in cantiere del presidente tante sono le visioni che anche da settembre in poi tante le opportunità offerte in diversi ambiti e se lei Davide potesse dare un suggerimento al suo presidente per inserire un servizio fare un passo in più essere anche audace nell'integrazione lei cosa consiglierebbe? Alfredo non ha bisogno di consigli non ha bisogno di nulla perché è talmente sensibile attento che noi semplicemente gli dobbiamo dire grazie è chiaro che quanto più si cerca di fare quanto più si prova a fare meglio è in tutti gli ambiti quindi aumentare il dialogo con le istituzioni ma lavorare molto nelle scuole molto con i ragazzi molto con le generazioni future che saranno i cittadini di domani che quanto più conosceranno quanti più valori hanno legati all'inclusione legati all'attenzione sociale tanto più sarà un mondo migliore per tutti e questo è un messaggio da sottolineare Valentina in più modi in più colori torno velocemente ad Anastasia e ritorno da voi Anastasia le classi come erano formate erano insomma miste un po' eterogene piccoli e grandi mentre vedo Maria Teresa Carrozzo con i due ospiti che torna a conquistare il fresco perché sono lì mi scuso spostatevi liberamente perché le vedo che vi vedo insomma andare avanti fare qualche altro passetto arriva il sole che picchia suppongo Valentina arriva il sole e io mi prendo il mio Davide pian piano e facciamo un po' un passo più avanti per cercare l'ombra fate benissimo ma questa è vita reale che noi documentiamo in ogni fase della nostra giornata quindi dopo una bibita fresca insomma voi tre che siete in esterna sotto il sole Anastasia torno velocemente da lei le chiedevo le classi la formazione delle classi come era abbiamo creato l'unico gruppo dove si sono uniti le mamme con i loro figli quindi abbiamo interagito in una maniera semplice e il corso era adatto a sé per per le adulti che per i bambini ovviamente non potevamo personalizzarlo molto certo certo immagino che i bambini insomma risultino essere confermarsi piuttosto delle spugne a differenza di chi ha qualche anno in più diciamo che a volte i bimbi sono molto più bravi dei genitori in imparare parlare provare le cose nuove senza paura senza fermarsi senza vergognarsi e lì viene molto più naturale che per per le adulti quindi è stata un'esperienza fantastica se per me personalmente che per spero anche per le maestre che anche per per tutte tutte le le donne le ragazze che hanno partecipato qual è la frase che i bimbi adorano pronunciare in italiano perché poi quando si impara una lingua straniera c'è sempre una frase che fa un po' più quasi suona un po' in modo piacevole no qual è quella italiana che adorano di più amano la parola ciao conoscono la canzone ciao ciao chiedono sempre come stai come stai come stai siamo italiani proprio in questo come stai tutto bene sì sì sono le cose fondamentali per iniziare il rapporto amichevole Anastasia io so che lei deve correre perché deve andare al lavoro quindi io la ringrazio per aver accettato il nostro invito e le auguro un buon proseguimento di giornata buon lavoro una pausa estiva e poi magari a settembre si torna sui banchi perché questa cosa devo andare a chiedere al presidente Fiorentino perché ha detto non è sicuramente l'unico progetto ce ne sono altri in cantiere però qualcosina dobbiamo pur cominciare a dirla grazie Anastasia buon proseguimento grazie buona giornata ed allora conquistando Passettino Passettino il fresco volete aggiungere rispondere qualcosa a quello che ti ha detto poco fa il nostro Davide sì sì volevo rispondere a Davide dicendo che fare gruppo è la cosa più importante che ci possa essere quindi noi ci confrontiamo sempre e quindi si apprende sempre da tutti quindi è bene sempre parlarne delle problematiche che ci sono in città perché magari tutti insieme possiamo risolvere qualsiasi problema se lo facciamo da soli molte volte magari facciamo il passo più lungo della gamba e non serve a nulla fare questo certo anche perché è importante confrontarsi con chi le vive quotidianamente è importantissimo è importantissimo fare tutto ciò qualsiasi cosa si tratti ecco e bisogna sempre parlare con con la persona che subisce questo problema Valentina poco fa chiedevi di avere qualche piccola anticipazione in merito all'iniziativa che l'associazione ha in cantiere e ancora riservate per settembre io provo a vedere se riusciamo ad avere qualche informazione in più del presidente Fiorentino che settembre sarà diciamo che continueremo sicuramente il percorso nato venerdì dalla presentazione quindi il nostro obiettivo è quello di entrare nelle scuole nelle parrocchie negli altri comuni per diffondere questo messaggio importante attraverso i paratleti poi riprenderemo comunque il corso cerchiamo di dare una mano fino a quando tutto non si sarà risolto e poi riprenderemo un discorso abbastanza importante per tutti perché noi l'anno scorso abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle donne che hanno subito violenza creando anche un filmato patrocinato dalla questura di Lecce dalla regione Puglia e dal comune di Lecce quindi porteremo avanti un progetto questa volta non solo una campagna per cercare di migliorare l'informazione anche attraverso dei corsi perché secondo me dovremmo tornare un po' indietro quella famosissima educazione civica ci serve sempre quindi bambini adulti verranno coinvolti in questi corsi per cercare di eliminare tutto quello che accade l'ultimo purtroppo accaduto a Novoli l'altro giorno Maria Teresa io attendevo nel prendere la parola perché abbiamo qualche secondo di latenza quindi è accaduto che io ti sono andata praticamente sopra e mi dispiaceva questa cosa quindi attendevo facciamo così Presidente sì mi pare di comprendere di capire che questa è un'associazione attiva in diversi settori che non nasce evidentemente con un settore specifico e me lo dica lei se sbaglio ma che si modula che si rimodula insomma che si adatta viene plasmata i servizi vengono un po' plasmati in base a quelli che sono i bisogni quelle che sono le necessità del territorio in un determinato momento però questo corso di formazione che nasce per la prima volta questo corso di italiano per il popolo ucraino nasce per la prima volta in questo momento storico è possibile pensare di in realtà programmarlo e di far sì che possa essere accessibile anche ad altri stranieri sul territorio e non solo al popolo ucraino visto il risultato eccellente ottenuto sempre naturalmente facendo squadra perché voi avete citato nel corso di questo appuntamento come abbiate fatto rete per esempio attraverso l'accordo con la provincia LSTP come l'amministrazione comunale di Lecce sia al vostro fianco in alcuni progetti abbiamo fatto un passaggio anche per ciò che riguarda la regione Puglia ecco continuando con questo lavoro di rete è possibile creare qualcosa di fisso di stabile come servizio e che non sia legato esclusivamente ad un determinato periodo storico è pensabile questo? sì secondo me si può fare però dovremmo partire sempre dalle fondamenta cioè dalle associazioni dovremmo creare una rete di associazioni vere che curano veramente il bene del territorio e quindi una volta fatto questo possiamo pensare che tutto sia possibile ecco ad oggi noi noi non siamo un'associazione con un IBAN con una raccolta fondi noi tutti i gesti che facciamo li facciamo con il cuore perché come diceva lei cerchiamo di plasmarci per ogni singola problematica poi grazie faccio l'esempio adesso dell'Unione Sportiva Lecce che ci ha donato delle maglie noi le abbiamo messe all'asta grazie a quello diciamo veniamo incontro al popolo ucraino grazie all'officine Cantelmo che comunque ospitano i ragazzi quindi si potrebbe fare molto di più se facciamo rete una rete importante insieme anche all'amministrazione di Lecce la provincia la regione si riuscirebbe a dare un grossissimo contributo a tutte quelle persone che sono in difficoltà è un ruolo fondamentale la pandemia forse ce lo ha ricordato quanto siano importanti le associazioni e il lavoro che svolgono in maniera volontaria Presidente come e quando nasce questa associazione perché abbiamo parlato quasi un'ora questa associazione Anna e Walter come e quando nasce allora nasce tre anni fa con l'obiettivo che vi elencavo poco fa di cercare di sensibilizzare il territorio e magari dove è possibile migliorarlo anche quindi siamo partiti con queste basi siamo partiti proprio forse un po' prima della pandemia ci siamo messi a disposizione della città perché poi ci sono state e ci sono ancora tante famiglie che subiscono la pandemia perché ci sono tante persone che hanno perso il lavoro che non l'hanno riconquistato quindi hanno bisogno continuamente di aiuti persone che magari non erano abituate neanche a questa situazione economica e quindi noi ci siamo alzati le maniche come si vuol dire aiutando un po' tutti da lì poi abbiamo creato vari eventi varie situazioni eventi meno perché purtroppo con la pandemia non ci dava la possibilità di farlo però comunque siamo stati a sostegno di tutte le problematiche che nascevano in città e non solo Valentina sì abbiamo un ritorno che ci permette alle volte di parlare con difficoltà tra l'altro siamo al termine quasi credo della nostra trasmissione siamo ormai in piena estate le vacanze le ferie cerchiamo di organizzarle un po' tutti alle volte anche con il last minute ma in che modo e con che attenzione invece deve organizzare le vacanze chi magari deve portare un po' di attenzione in più Davide come stai organizzando la tua vacanza e dove andrai? Allora noi abbiamo la fortuna di vivere una terra bellissima con un mare stupendo quindi spostarsi altrove per vivere le vacanze estive non lo trovo giustificato giustificabile quindi rimarrò qui a godermi il meraviglioso Salento però effettivamente hai toccato un tema molto importante organizzare le vacanze per una persona con disabilità non è semplicissimo occorre innanzitutto verificare che la struttura sia accessibile quindi mi riferisco a disabilità motorie occorre verificare che ci sia quell'attenzione al bagno all'ampiezza per esempio della porta d'accesso che non ci siano rampe che ci sia attenzione disponibilità ad accogliere anche il cane guida perché per legge il cane guida deve entrare nelle strutture ma purtroppo non mancano le crone che spesso ne riportano episodi in cui invece non sono accolti quindi occorre preparare oltre al bagaglio anche tanto tanto altro per poter vivere serenamente una bella vacanza che vi invito a trascorrere nel Salento perché il Salento è una terra magica che si sta attrezzando anche da questo punto di vista ad essere attenta e pronta perché effettivamente il segmento del turismo il turismo accessibile è molto ampio molto valido dal punto di vista della qualità e della quantità che va sviluppato va assecondato ed è conveniente farlo Maria Teresa aspettate un attimino perché tra pochissimo torno perché c'è insomma l'attualità l'ultima ora c'è una notizia importante anche per l'intera regione Puglia dovrei avere in collegamento il collega Domenico Brandonisio perché praticamente oggi c'è quella che tecnicamente viene chiamata Domenico l'apertura del diaframma della galleria Monte Aglio sarà possibile dunque per i pogliesi viaggiare da Bari a Napoli con un treno diretto Domenico dove sei? Ciao Valentina buongiorno a te buongiorno a tutti i nostri spettatori di Martino Sud noi stiamo ci stiamo recando sul posto ancora un po' di pazienza ebbene sì ci staremo ad un evento che comunque è molto importante perché appunto con questo abbattimento diciamo che si segna una tappa simbolica nel percorso appunto della realizzazione della Bari Napoli lo ricordiamo prevista nel 2027 un'opera che il cui costo si agire intorno ai 5,8 miliardi di euro e che consentirà tra due anni insomma la possibilità che venga percorso questo tratto dal primo treno diretto che appunto si propone di collegare Bari e Napoli lavori che peraltro consentiranno anche un'importante un'importante novità sul piano occupazionale con almeno 7 mila dipendenti alcuni tratti sono stati già completati altri ancora saranno da completare noi ci troveremo in particolar modo sul tratto Napoli a Fragole è chiaro che adesso noi Valentina vi offriamo giusto delle anticipazioni ma poi avremo un resoconto completo nel corso dell'edizione delle 13 e 15 non solo anche per dar spazio anche alle interviste degli addetti ai lavori insomma di quello che in un certo senso sarà lavori comunque importanti per un'opera strategica lo ricordiamo che collega due importanti centri del Meridione sono rispettivamente la prima e la terza città del Meridione d'Italia per grandezza se vogliamo anche per importanza calcolando la penisola Bari sarà addirittura la seconda e quindi l'abbattimento di questo di offramma importante dovranno avere con noi poi Vera Fiorania amministratore delegato di RFI e quindi Andrea Nardinocchi che invece è l'amministratore delegato di Italfer noi quindi tra poco arriveremo sul posto e avremo modo di documentare il tutto ricordiamo che i treni avranno una percorrenza di circa 120 minuti con una velocità massima di 250 km orari grazie dunque alla collega Domenico Brandonisio buon proseguimento buon viaggio e poi buon lavoro naturalmente tutti i dettagli nell'edizione del nostro telegiornale a partire dalle 13 e 15 sul canale 14 Antenna Sud se non si sono sciolti devo tornare dai miei ospiti Maria Teresa Carrozzo al Freddo Fiorentino e Davide perché siamo in fase conclusiva credo dobbiate fare un passettino ancora in avanti perché vi vedo un po' al sole ci autorizzi? sì certo ma ci mancherebbe altro mi fate sentire in colpa praticamente stiamo soffrendo in diretta per te e stiamo documentando però quanto bello e forte e quanto abbronzi anche mentre si lavora il sole del Salento e allora velocemente Maria Teresa la chiosa finale è affidata a voi Alfredo un messaggio che possiamo dare ai nostri telespettatori un messaggio positivo e di integrazione io vorrei fare vorrei dare due messaggi ecco partiamo da quello positivo quello positivo è quello che bisogna sempre aiutare il prossimo fare rete fortificare dove la rete ci fosse già non tirandosi ma indietro questa è una cosa principale la base per cercare di migliorare la cultura del nostro territorio ecco chiamiamola così l'altro messaggio è un po' negativo ed è un appello che faccio perché non ci dobbiamo dimenticare che purtroppo in Ucraina c'è ancora la guerra qui da noi ci sono tantissime persone che sono state ospitate i tanti volontari hanno anticipato le istituzioni perché comunque tantissime persone sono arrivate qui con mezzi di fortuna purtroppo da qualche settimana a questa parte sentiamo che le persone che hanno ospitato mandano via donne e bambine ucraine lasciandoli in mezzo alla strada quindi questa è una cosa bruttissima che non dovrebbe accadere ecco perché questo è un altro lavoro che teniamo da qualche settimana riversandoci su questa nuova problematica perché quando diamo porgiamo la mano Presidente apriamo però un altro capitolo naturalmente sarà premura della collega Maria Teresa suppongo poi cercare di comprendere cosa sta accadendo assolutamente sì lo approfondiremo sul territorio e poi offriremo un approfondimento un servizio nelle prossime edizioni dei Tg di Antenna Sud invece tu Davide vuoi fare un appello alle istituzioni? Io innanzitutto permettetemi voglio ringraziarvi perché dedicare del tempo a questo tema pensare di farlo già merita un plauso quindi grazie grazie di cuore è così che si alimenta la cultura del possibile e dell'inclusione con i fatti con la testimonianza con il raccontare con il parlare così si avvicinano le persone si informano e si crea attenzione anche da parte delle istituzioni vi voglio anche chiedere voi che siete così sensibili a dedicare se possibile magari organizzando la programmazione da settembre quando sarà possibile uno spazio dedicato agli sport per persone con disabilità quindi capire in Puglia che cosa c'è che cosa si fa raccontare queste geste i campionati le discipline le prestazioni in modo da far avvicinare sempre più le famiglie gli atleti potenziali che sono magari chiusi a casa che hanno paura che invece è possibile che invece serve che invece aiuta e quale mezzo più potente di una televisione radicata e sempre sensibile sul territorio della vostra quindi aiutateci aiutate anche le istituzioni in questo modo a venirci incontro ad ascoltarci a comprenderci ma soprattutto è fondamentale raccontare alle persone ai cittadini che c'è una potenzialità inespressa che va soltanto ascoltata che la disabilità fa parte del mondo quindi comunque è una parte che va chiarissimo tutto Maria Teresa mi devi scusare con i tuoi ospiti ma è tassativo siamo in chiusura mi stanno per sfumare non conoscenze lo dico per correttezza anche nei confronti dei telespettatori lo sapete il palinsesto non guarda in faccia niente nessuno devo necessariamente chiudere grazie Maria Teresa Garrozzo grazie davvero per il tuo lavoro grazie a Matteo Russo una squadra anche noi sempre in in sintonia sempre al lavoro mattina sud torna domani come sempre alle 9 in punto buon proseguimento a tutti voi